che ci porta a parlare di un'iniziativa nella quale abbiamo già accennato e parlato ma torniamo a occuparci nel dettaglio oggi poi c'è anche la presentazione ufficiale in comune questa mattina, noi però in anteprima visto che il protagonista è qui da noi è un nostro amico abbiamo l'onore lui però non è molto felice di dire che è il nostro amico ormai sono anni sono fatti i tuoi sì sono anni Alberto Vannelli, primario chirurgia ospedale Valduccio di Como perché Alberto, intanto grazie buongiorno dottore buongiorno a voi ben ritrovato, ti saluta subito la nostra Rosa buongiorno cara Rosa perché domenica c'è questa passeggiata nella prevenzione cioè in piazza Verdi davanti al teatro sociale verrà collocato un grosso tunnel adesso lo faremo vedere che rappresenta il colon umano dentro nel quale si entrerà e che cosa si vedrà dottor Vannelli? sì l'idea è quella di poter toccare con mano eh esatto quello che tante volte fare il chirurgo fare il chirurgo sì no ecco mi raccomando di non portare via niente perché il colon è gonfiabile se no poi si sgonfia l'idea di fare il dottore il chirurgo mi ha sempre affascinato ok 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 allora puoi venire a toccare con mano come si era a farlo tante volte parliamo di prevenzione ma spesso e volentieri si scivola su argomenti tecnici che il più delle volte non avendo la comprensione per comprendere fanno paura e quindi l'effetto è quello poi di non aderire a quello che invece per noi diventa un elemento fondamentale i tumori del colon retto rappresentano uno dei big killer sono 43 mila nuovi casi ogni anno e la prevenzione fa veramente la differenza non solo nella cura ma addirittura nella guarigione ecco quello che vediamo dottore scusa se mi interrogo lo stiamo facendo vedere è il colon che porteremo in piazza esatto molto raffigurato con questo tunnel ecco è il colon una parte appunto del colon che domenica troverete in piazza Verdi davanti al sociale esattamente l'idea è quella di utilizzare un qualcosa che sia giocoso nel senso di non scendere poi nel dettaglio di quello che è l'aspetto esclusivamente medico o chirurgico come volevi tu per cui eventualmente vieni in sala operatoria con me a toccare con mano sarebbe un'esperienza fantastica va bene l'avrò organizzato così dirò al dottor Bellotti che fa i turni di inserirti nel prossimo turno del mese in sala operatoria l'idea è proprio quella di scendere come livello quindi essere un pochino più giocoso l'interno di questo colon è rappresentato in maniera semplificata però in maniera reale quindi avremo sia la parte di come è fatta la parete sana ma anche con gli aspetti come possono essere i polipi che tendono poi a essere l'elemento più critico per noi perché sono quelli che negli anni si trasformano in tumori aspetto giocoso diceva giustamente il dottor Vannelli però Alberto aggiungo anche però anche un impatto direi emotivo sì è forte sicuramente forte e poi serve forse per farlo sì alle volte uno schiaffone in faccia può aprire gli occhi e far capire meglio di che cosa si parla perché se no sono numeri e come spesso succede poi rimangono confinati in un aspetto poco concreto è più astratto che reale mentre in realtà qui cerchiamo di essere reali questo progetto è fatto da Johnson & Johnson che mette a disposizione questa struttura il colon gonfiabile quello che noi abbiamo fatto come ospedale Valduce è stato quello di cercare di fare rete con il territorio sai quanto io tengo a questo aspetto e abbiamo trovato sponda da una parte con il comune che ha reso possibile perché in realtà senza il comune noi questa cosa non l'avremmo potuta realizzare una piazza che per noi è sicuramente importante perché è una via di passaggio comoda quindi chiunque passeggiando in città può venire l'evento ovviamente è gratuito aperto a chiunque ecco bravo e la possibilità anche di coinvolgere altre istituzioni come ad esempio la presidenza del consiglio di regione Lombardia per cui un particolare ringraziamento ad Alessandro Fermi che ha reso possibile anche con la loro presenza a questo evento e poi anche alla cittadinanza questo mi piace ricordarlo perché sai tante volte uno fa qualche cosa che resta in ambito sanitario io invece spero sempre che questo sia più riferito alla cittadinanza abbiamo avuto anche sponsorizzazioni importanti come l'impresa di Lenoto che ha voluto partecipare e anche Comocalcio che proprio ieri sera ha concluso con noi un accordo di sponsorizzazione quindi saranno presenti anche loro in piazza domenica e intanto scusa dottore vedo tanti nostri ascoltatori che ti salutano ovviamente e ai quali diamo l'appuntamento proprio domenica ci sarò io ci sarò io perché poi dopo al di là della passeggiata qualcuno che spieghi nel dettaglio ci vuole allora come ospedale Valduce sarò presente io l'inaugurazione è alle 11 e andiamo avanti fino alle 17 quindi tutto il giorno sostanzialmente Rodolfo buongiorno a te ad Anna Maria a Clara Cristina Cinzia buongiorno anche a nostra Rosa cari saluti e dal dottor Vannelli anche che vi aspetta tutti domenica con questo momento importante di prevenzione noi ne abbiamo sempre parlato il dottor Vannelli è sempre stato un must nel corso di questi anni che è venuto qua a trovarci ecco direi dottore mai come in questo caso forse no beh anche quella volta di Villa Ormo avevamo fatto delle cose un po' forti anche lì l'idea è quella sempre di cercare di stimolare l'attenzione magari con qualche cosa che non sia esclusivamente sanitario ma che faccia riflettere che è sanitario che è sanitario sì ma che poi va a colpire anche no? sì 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 questa cosa devo dire sono anche orgoglioso perché grazie al contributo di tutti del mio ospedale e del territorio siamo l'unica città in Lombardia che quest'anno ha avuto l'opportunità di realizzare questa iniziativa e quindi anche un risultato già concreto cioè il fatto di aver trovato persone che abbiano voluto ascoltare e fare proprio questa nostra iniziativa mi fa molto piacere intanto stiamo facendo vedere anche il countdown che c'è sulla pagina ufficiale dell'evento domenica 30 vedete Erone Onlus Erone Ospedale Valduce ed Erone Onlus che è la tua Onlus Alberto vi attendono appunto all'evento che si chiama Colossal Colon c'è un'immagine un po' così pazzesca che avete messo una passeggiata nella prevenzione Piazza Verdi che è la piazza davanti al teatro sociale mancano tre giorni tre ore undici minuti e trentacinque secondi insomma giusto per essere precisi per non perdere tempo volevo fare una domanda visto che seriamente chiaramente visto che si starà lì dalle undici alle diciassette si mangia anche? allora hai ragione hai ragione concrete scusate scusate giusto fare un quadro chiaro della situazione nel senso che mi vuoi portare da mangiare io sarò lì dalle undici alle diciassette quindi è possibile che non mangi no effettivamente è una riflessione che avevamo fatto poi ci volevano altre autorizzazioni per quest'anno vediamo come va però piazza difficile sì certo però l'idea sarebbe anche capire l'interesse reale della popolazione perché eventualmente attorno a questa cosa del colon gonfiabile magari si potrebbe creare un evento condiviso anche ad esempio sul tema visto che ovviamente è correlato a doppio filo quello dell'alimentazione anche infatti esatto far capire anche gli effetti magari positivi o negativi di un'alimentazione sbagliata certo ci sono tanti aspetti che vediamo come va questa volta e poi anche in funzione della risposta decideremo come migliorare ricordiamo che questo evento è patrocinato anche dal comune di Como che ha dato il patrocinio quindi oggi tra l'altro a mezzogiorno il comune farà una presentazione abbiamo già anticipato insomma sostanzialmente abbiamo spoilerato era già previsto era tutto previsto non abbiamo voluto comunque quindi l'abbiamo già anticipato ma dottore per chiudere volevo chiederti complimenti perché in effetti è un progetto secondo me che può davvero far capire ecco magari come quello di Villa Olmo in maniera importante che cosa ti aspetti che cosa vi aspettate come erone come ospedale Valduce la presenza dei giovani prima cosa abbiamo anche coinvolto le scuole l'idea è quella di partire da giovani nella prevenzione quindi nella tutela del proprio corpo e l'idea di portare un oggetto esattamente hai ragione quello che dicevi tu della mostra di Villa Olmo che avevamo fatto cioè un qualche cosa che possa coinvolgere la cittadinanza e l'interesse che parte da subito quindi dai giovani per me è la cosa più importante e poi le domande passeggiando magari all'interno di una cosa che uno non si immagina perché non è che tutti i giorni uno fa una cosa del genere magari avere anche la curiosità di chiedere per questo noi come ospedale Valduce saremo presenti in questo caso ovviamente io e a disposizione per qualsiasi tipo di domande vedete il tunnel eccolo qua domenica piazza volta ore 11 vi aspetta il dottor Alberto vannelli che appunto sarà lì a disposizione farà da cicerone vi spiegherà tutto davvero ed è molto importante questo momento anche per i giovani come hai detto tu Alberto eh sì perché la prevenzione è efficace a patto che venga fatta fin dall'inizio e per queste malattie ovviamente non c'è un'età in cui vale la pena iniziare la prevenzione quindi domenica mi raccomando vi aspettiamo tutti ciao anche a Gianfranco e a Tiziano buongiorno a tutti i ragazzi Marinella anche lei e Clara che l'abbiamo salutata già Gianfranco tutti bene buongiorno allora cari amici l'approfondimento di oggi con Alberto Vannelli primario della chirurgia del Valduce che ci ha spiegato appunto questa bella iniziativa di domenica allora domenica tutti in piazza piazza Verdi davanti alla sociale e andate a trovarlo andate là gli stringete la mano portatevi da mangiare portatevi un panino sarai lì vero i nostri amici vengono i nostri tele e radio ascoltatori salutali mi raccomando fai il carino se si presenta la nome vostro faccio il carino ecco bravo dottore no ma è sempre gentile grazie Alberto un abbraccio buon lavoro e a domenica